Ciao carissimi, la Wall Street Journal, che come sapete non è la Pravda, non è Gazzetta del Cremlino, non è un giornale che si chiama La Voce di Putin. La Wall Street Journal è un giornale statunitense, molto importante, chi non segue questo giornale io vi invito di seguirlo, a prescindere è molto importante perché spesso loro pubblicano la propaganda ma anche molti loro articoli sono utili per capire cosa pensano gli Stati Uniti, quali sono i equilibri del potere all'interno degli Stati Uniti e così via. Comunque anche sulla guerra in Ucraina, spesso The Wall Street Journal hanno pubblicato delle notizie abbastanza equilibrati, notizie ben preparati, hanno alcuni giornalisti molto potenti, ovviamente si tratta comunque di un giornale che fa gioco al potere statunitense, agli oligarchi anglosassoni, a chi organizza la guerra, a chi utilizza i concetti come la democrazia, la libertà nei propri biecchi interessi per mantenere un potere colonialista, speculatorio che domina il mondo per la forza del dollaro, la valuta che ormai non ha alcun senso reale, alcun valore reale, si base solo sul potere militarista degli Stati Uniti d'America. Ecco, questo giornale, siccome ogni tanto pubblica anche gli articoli leggibili, adesso ha fatto un interessante articolo di approfondimento, articolo di approfondimento su ciò che sta avvenendo sul fronte tra Ucraina e Donbass e la Russia che si trova nel Donbass sulla controoffensiva, fanno valutazioni, cercano di capire cosa è successo nei primi giorni. Adesso bisogna dire che è il periodo in cui ancora per un po' di settimane ci sentiremo queste valutazioni perché per pubblico occidentale, per giornalisti occidentali, soprattutto per i propagandisti del sistema atlantista, è stato uno shock di trovarsi davanti a questa cruda realtà. Tutti loro da mesi dicevano che l'Ucraina è pronta per la controoffensiva, tutti loro erano convinti che soldati ucraini, ben addestratti dai tedeschi, dai britannici, dai polacchi, persino in Italia alcuni hanno passato le fasi di addestramento presso le strutture della Nato, quindi tutti quanti erano convinti che la Nato e l'Occidente collettivo ha fatto di tutto per trasformare quei 18-20 brigate che sono stati formati in Ucraina attualmente per trasformarli nelle brigate effettive e capacissime di riprendere tutti i territori, di sconfiggere l'esercito russo. Ovviamente molto si parlava dei carri armati, dei blindati moderni che sono stati forniti all'esercito ucraino, qua si parla soprattutto di Bradley, di BMP che sono stati forniti all'esercito ucraino, ai specialisti ucraini e dei carri armati Leopard. A leggere gli articoli di qualche mese fa sembrava che questi Leopard sono invincibili, che sono carri armati che non hanno assolutamente nessun nemico in grado di sconfiggerli, che con questi carri armati gli ucraini dovessero arrivare fino alle mura del Cremlino e oltrepassare pure quelli. Si parlava appunto di un'operazione militare che deve per forza portare agli ucraini un successo, successo importante, successo che avrebbe dovuto verificarsi già in primo giorno della controffensiva. Ovviamente pochi all'epoca di questa propaganda, di questa baccanalia propagandistica prestavano attenzione le persone ad esempio come me che dicevano guardate ragazzi i carri armati Leopard possono essere anche migliori del mondo, possono avere anche le super tecnologie arrivate dall'altro pianeta e avanzatissime rispetto alle tecnologie moderne, ma se sono pochi e soprattutto se sono messi nel campo senza dovuto appoggio di artilleria e aviazione giustamente il loro impegno strategico è molto limitato e molto probabile che saranno persi in battaglia. Al che ci dicevano che io sono propagandista, che quelli che tengono questa linea sono propagandisti di Cremlino e così via. Adesso a quanto pare i giornalisti occidentali, tutta gente che insomma cercava di, prima di essere molto entusiasta e condividere questo entusiasmo, inculcarlo nelle teste delle masse, adesso sono trovati di fronte alla realtà oggettiva che per loro è una doccia fredda e loro devono capire come adesso elaborare questa informazione, quindi la stanno ancora elaborando. Per cui ci sono delle varie opinioni, ci sono ancora i dibattiti, ci sono ancora quelli che negano questa realtà. Ad esempio di recente nel BBC, nel canale britannico, hanno dedicato un intero programma a un processo, a mio avviso molto degradante. Hanno preso i video dei droni degli apparecchi militari russi nei quali si vedono i mezzi militari della Nato bruciati, distrutti, devastati e hanno fatto una specie di analisi dei video dicendo che questi sono video falsi. Addirittura c'era questo conduttore che guardava il video, diceva guardate qua il fuoco brucia in una perfetta forma geometrica e così non deve avvenire. Poi se si vede video, è palese che video di bassa qualità, ci sono proprio delle immagini a quadretti perché i video gerati dai droni non sono video di una risoluzione. Però questa gente non guarda queste cose, loro usano qualsiasi, si aggrappano a qualsiasi elemento pur di portare avanti la loro propaganda, pur di negare l'evidenza. Quindi noi siamo adesso nella fase storica in cui anche The Wall Street Journal e i suoi giornalisti facendo approfondimenti su questo tema cercano ancora di capire cosa sta succedendo e cercano di lentamente convincere se stessi che ciò che è avvenuto è la realtà. Ed è molto interessante la risposta di vari analisti e anche le voci che si creano attorno, perché quando i giornalisti di Wall Street Journal sono andati ad intervistare sia militari ucraini che i loro preparatori della Nato, si è scoperto che c'è un odio tra loro, c'è un enorme disaccordo tra militari ucraini, tra i rappresentanti dell'esercito ucraino e rappresentanti della Nato. In questo articolo recente che è uscito il 11 giugno per Wall Street Journal, loro dicono, noi abbiamo intervistato sia militari ucraini che persone che le preparavano e abbiamo notato che questi non hanno un punto di vista, come dire, simile. Loro si accusano a vicenda in realtà. Ognuno accusa l'altro del fallimento che è stato visto sul campo di battaglia. Così ad esempio i soldati ucraini, cioè i militari ucraini, soprattutto quelli che essi occupavano di guidare i carri armati e i Bradley, quindi parliamo di meccanici, comandanti della macchina, quindi non si tratta della fanteria, non sono le opinioni dei fanti, sono opinioni dei carristi, specialisti, specialisti, specializzati, addetti alla guida di queste macchine da guerra, che sono stati addestrati dai specialisti occidentali. E quindi caristi ucraini, nella loro intervista a The Wall Street Journal, tra altre cose hanno detto, veicoli occidentali sono stati progettati per il combattimento urbano e per il deserto. Nella nostra realtà possono passare, ma con molte difficoltà. Così ha detto il comandante ucraino, nome di Battaglia Finn, in una sua intervista a Wall Street Journal. E poi a lui ha risposto, diciamo, in maniera molto grave, molto pesante, accusatoria, uno degli istruttori che addestrava lui e gli altri soldati ucraini. Uno di questi istruttori è un istruttore statunitense, quindi un carrista statunitense, un militare statunitense, che ha fatto un approfondimento, lui ha voluto rimanere anonimato, lui ha fatto un approfondimento con giornalisti di The Wall Street Journal e lui ha detto, intanto si è lamentato dei militari ucraini, ha detto che non sono per niente pronti, non sono per niente motivati, ha detto che la loro preparazione tecnica è scarsa e poi alla fine dice che noi siamo stati mandati ad addestrare i contadini analfabeti con le tendenze all'alcolismo. questo cari amici è un vero e proprio, come dire, disaccordo in famiglia, una classica situazione in cui prima questi facevano le foto tutti insieme, americani con ucraini, mettevano insieme le bandiere, ci sono anche famose bandiere dove c'è la svastica nazista, la bandiera ucraina con lo stemma di battaglione Azov e la bandiera americana degli Stati Uniti d'America e la bandiera della Nato, quindi tutti i valori messi insieme, a tutti andava bene questa cosa, i militari della Nato andavano lì, addestravano questi nazisti sapendo che sono nazisti, nonostante il fatto che il capo, ad esempio, del gruppo militare che addestrava questi personaggi in Germania, il generale tedesco, addirittura ha denunciato il fatto che i soldati ucraini sono nazisti, che hanno i simboli nazisti, che sui telefonini hanno il materiale improponibile, il materiale che mostra torture nei confronti dei soldati russi e così via. Insomma, tutto questo, tutta questa loro unione e amicizia, grandi progetti di conquistare la Russia insieme, sono sgonfiati come un palloncino di fronte a prima piccola sconfitta, perché comunque non si tratta di una grande sconfitta, sì, hanno perso una brigata corazzata, si può comunque sopravvivere, avete altri 20, non 20, 18, però riprendetevi, dimostrate la vostra unione, invece cominciano a litigare, escono fuori queste offese, questi bassi colpi perché nessuno vuole prendere la responsabilità. Questo a mio avviso dimostra chiaramente una cosa, che nella coalizione di queste persone non c'è un vero e sincero sentimento di unione e fratellanza tra loro, c'è semplicemente l'interesse economico, quindi loro, gli americani a mio avviso non sono per niente interessati della libertà dell'Ucraina, se ne sbattono, loro vanno lì perché gli danno i soldi e poi appena succede un piccolo guaio, loro subito alzano le mani e dicono che non è colpa mia, questi sono analfabeti, alcoolizzati, io invece sono bravo, sono forte, sono intelligente, sono occidentale, sono venuto lì a spiegare a questi animali come si guida una macchina così tecnologica importante e questi imbicilli non capiscono niente. Il discorso degli statunitensi è questo, ovviamente è molto degradante, dall'altro canto, agli ucraini, anche loro fanno lo stesso gioco, loro dicono che non è colpa nostra, sono i mezzi che non vanno bene, sono i mezzi che sono stati progettati dal deserto e non per il nostro fango e noi facciamo fatica con questi mezzi a conquistare posizioni russe, poi l'Ucraino non spiega perché loro in pratica non hanno alcuna capacità di utilizzare la tattica di utilizzo di questi mezzi. Io ho visto dei video dove un primo mezzo in una colonna è stato colpito dalla mina anticarro e fine, ed è panico totale, l'afanteria scappa, l'afanteria senza permesso esce dai mezzi e scappa, fuggi in mezzo al campo di battaglia, altri mezzi si girano dando il dietro al nemico, non indietreggiano come dovrebbero fare nella strategia, ma si girano proprio e vanno via dalla formazione, mentre loro lo fanno un altro spara, non si capisce dove, infatti la voce fuori campo dice ma spara lì da qualche parte, poi l'afanteria si aggrappa su un altro mezzo, delle cose a luce, poi un mezzo viene colpito, fumo, casino e panico totale, urlano, gridano. Io quando ho visto questo video ho detto ma qua non è discorso che le macchine come Bradley o come Leopard non sono macchine valide, per carità possono essere diversi dai quali sono abituati ucraini, da macchine sovietiche, ma comunque sono macchine validissime a mio avviso, e che se tu vai in panico con prima mina anti uomo che ha fatto esplodere il mezzo che apriva la colonna, devi cambiare mistiere, non devi fare militare, fai qualcos'altro. Se per te questo è il motivo per avere panico, cosa succederà quando tu finirai sotto il fuoco congiunto? Quando ti tireranno da una parte con i Ptur, con i missili reattivi guidati anti caro, dall'altra parte ti tira l'artilleria con colpi da 150, i droni ti sganciano le bombe dalla testa e poi arrivano pure un paio di elicotteri K-52 e ti sganciano i missili NAR. E cosa ti succede a questo punto? Ti suiciderai? Non lo so, a me mi sembra che queste sono delle scuse più facili di dire, ah ma i mezzi non vanno bene, a mio avviso non va bene la morale, la morale è la preparazione dei militari che hanno adoperato questi mezzi e in questo c'è la colpa sicuramente degli istruttori, c'è la colpa dei stessi militari, ma cari amici la colpa più grande è del sistema, a mio avviso la colpa più grande è del regime di Kiev che dopo pochissimi mezzi di preparazione della gente che prima non faceva militare, la gente che è stata pescata, presa a forza per strada di Ucraina arruolata nell'esercito, in tre mesi tu non puoi trasformare un civile in un militare in grado di sfondare le linee di un esercito regolare, possono avere mezzi più potenti che volete, ma in tre mesi è poco, anche un anno è poco, per questo la gente va preparata tutta la vita, devono partecipare a varie operazioni, devono fare tantissime esercitazioni, non basta fare un giro con Bradley, in una compagnia, con musichetta, come lo fanno vedere alcuni militari ucraini sui loro TikTok, questi non sono addestramenti, addestramento vero quando si crea la situazione di battaglia, quando ti esplodono le cose attorno, quando viene simulata l'esplosione di una mina anticarro, quando vi sparano addosso anche con l'artilleria e vi insegnano di non avere paura, di non correre come le formiche in tutte le direzioni, ma andare compatti e organizzati, anzi in formiche sono più organizzate di quello che ho visto io su alcuni video degli ucraini. Quindi la problematica cari amici è che il regime di Kiev ha messo le brigate composte in gran parte dalle persone che non sono pronte per questo tipo di svolgimento di incarico operativo. Poi ci sono anche sicuramente i militari esperti nell'esercito ucraino, ci sono quelli che adesso ad esempio di recente nella direzione di Sporgenza, Vadyanoia, non mi ricordo come si chiama, comunque loro hanno sfondato, hanno preso alcune posizioni dei russi, per carità questo hanno fatto sicuramente i militari esperti, però non sono la gran parte, questo è il problema e quando appena escono le debolezze cominciano a accusarsi tra di loro, ucraini accusano statunitensi, statunitensi accusano ucraini e a mio avviso, ripeto, il problema principale è il regime di Kiev, il comando dell'esercito ucraino, mandano in prima linea alla gente non preparata e questo si vede dai video, si vede dalla reazione degli stessi militari ucraini a ciò che succede loro attorno, non si può scappare, non può un'intera colonna dei blindati andare in tilt, in totale panico e cominciare a perdere qualsiasi tipo di controllo, hanno perso totalmente il controllo per una mina anti carro, così non si può, questo non è normale nella strategia militare, io questo video ho condiviso sul mio canale Telegram, per chi è interessato andate a vedere, scorrete un po' perché io aggiorno ogni giorno, ci sono tante notizie che pubblico, andate a vedere qualche giorno fa tra 7 e 10 giugno, troverete sicuramente questo video dove c'è un panico totale, c'è un panico totale, io non ho visto da nessun'altra parte una cosa del genere, va bene carissimi, vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un forte braccio, vi invito ad iscrivervi al mio canale Youtube, a condividere il mio video con i vostri contatti, vi ricordo che c'è il mio nuovo libro, troverete nella descrizione di questo video il link per poter acquistarlo, prenotarlo e vi mando un forte braccio, vi voglio bene.